Un imprenditore napoletano, Bruno Sandone, di 49 anni, attivo nel settore delle bonifiche, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Napoli, con il NOE dei Carabinieri e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Dalle indagini della sezione Ambiente edilizia Urbanistica della Procura di Napoli, l'imprenditore avrebbe dovuto eseguire il ripristino e il recupero ambientale di una ex-cava chiamata Cava Suarez. Al contrario, avrebbe realizzato una discarica abusiva, sversando nel parco metropolitano delle colline di Napoli, tra le 200.000 e le 250.000 tonnellate di rifiuti, tra cui anche Amianto Frantumato. Gli arresti dell'uomo, posto ed omiciliari, sono stati firmati dal GIP Antonio Baldassarre. Per avere un'idea dell'entità, dello scempio perpetrato, viene sottolineato in un comunicato, basti dire che il volume dei rifiuti illecitamente smaltiti, per come è valutato dalla consulente, è pari a quello di un edificio con base di 90 metri per 90 metri e un'altezza di 7-8 piani. Le forze dell'ordine hanno sequestrato autocarri e macchine per il movimento terra della società, riconducibile all'imprenditore arrestato, per un valore quantificato in circa un milione di euro. Gli è stata notificata anche una interdizione dell'esercizio e dell'attività imprenditoriale. L'uomo era stato già rinviato a giudizio per l'omessa bonifica proprio di Cava Suarez, ordinata sia dal Comune di Napoli sia dal giudice penale.